Come tratterebbe i traditori? Li punirei. Con la morte? C'è un nuovo caso a proposito, il primo morto dell'anno. Quell'uomo ha regalato soddisfazioni ai circoli del ring dell'intera Berlino. E chiunque sia stato ad ammazzare quel funzionario, adesso è il loro nemico. Viva la nuova era! Edizione straordinaria, guerra tra bande criminali a Berlino. Bruttaglio, micidio a Kreuzberg, crimine di Laga. E ora, ancheciate a più non posso, tutta la città fa il tipo per voi! Siete pronti a dare l'assalto? Al torto segue il diritto, alla barbarie segue l'ordine, alla debolezza segue la forza. Io desidero la distruzione. È un sentimento che nutri verso il mondo o verso un uomo in particolare? Non un uomo, padre. Il diavolo. Io non la riconosco più. Lei per me è morto, signor Rant. Gereon, sei pronto per la prossima seduta?